Questa mattina al mercato San Decenzo di Pesaro è iniziata la campagna di raccolta in aiuto della popolazione alluvionata dell'Emilia-Romagna. Gli ambulanti del mercato, rappresentati da Valerio Tamburini, insieme all'UNSI, Unione Nazionale e sotto ufficiali italiani, hanno da oggi iniziato a raccogliere tutti i beni di prima necessità da recapitare a tutte le famiglie in gravi condizioni, residenti nei territori ancora allagati. Martedì 6 e martedì 13 si continuerà a raccogliere quanto più materiale possibile, sempre davanti al bar ciclone situato al centro del mercato dalle ore 8 alle ore 13. Questa grande raccolta è iniziata oggi con molto successo. La gente capisce la situazione, ma soprattutto gli ambulanti che hanno partecipato molto a questa iniziativa e anche la gente stessa ci sta portando una marea di roba. Noi faremo questa raccolta per ancora altri due martedì, il giorno 6 e il giorno 13 del mese di giugno. E quindi è una raccolta particolare proprio per la gente che ha perso tutto. Ci serve un po' di tutto, ma soprattutto cibi a lunga conservazione, cose per igiene intima e tantissime altre cose che servono quando uno ha perso il tutto. Cibo, alimenti soprattutto e guardate, candeggina, stracci, questi sono strofinacci per pulire, ecco, quello che ci serve è lenzuola, coprilenzuola, cuscini, il tutto. Quando uno ha perso tutto serve tutto, questa è la realtà. Noi abbiamo un'associazione che si chiama UNSI, che sono l'Unione Nazionale Sud Ufficiali Italiani, che sono dei sud ufficiali dell'esercito in pensione, che appunto hanno la sede sia a Urbino che a Pesaro, che arrivano qui con dei camion e portano il tutto, distribuendo poi la roba direttamente nelle zone alluvionate. Quindi la cosa è molto seria e va direttamente proprio nel luogo in essere. In Emilia Romagna portiamo noi, direttamente noi, con mezzi che ci prestano. Andiamo su, ultimamente abbiamo portato una quindicina di bancali d'acqua. Se troviamo il mezzo idoneo partiamo subito su, nelle basi dove ci dicono poi la protezione civile sul posto, dove c'è bisogno poi andiamo a portare la roba. La situazione è quella che si vede in tv. E ancora, ci sono posti che c'è ancora l'acqua alta. E c'è ancora tanto da fare. Sì, tantissimo. Che poi ora si è seccato anche il fango e è diventato cemento. Perciò ora il doppio lavoro. Speriamo di ritornare su anche a dare una mano fisicamente, oltre a portare dei vivi. Ho portato dei pantaloni da uomo, felpe, un buonissimo stato, che è uno di mio marito. Sono molto contenta. E poi porterò anche dei viveri, delle cose, perché ho visto delle immagini davvero che mi hanno colpito molto.